Procuratore Fogliadelli, si possono evitare le tragedie sulle strade della marca trevigiana? Purtroppo, nonostante una significativa diminuzione degli incidenti stradali, assistiamo tuttavia ancora a molte tragedie. Parlo degli incidenti mortali, parlo delle ferite gravissime, che gettano della disperazione una famiglia. Occorre vedere e constatare quale sia lo scempio delle vite, degli affetti, a causa di una cosa, di una tragedia che si può e si deve evitare. Perché altrimenti non possiamo più parlare di incidente stradale, dobbiamo parlare di un'azione volontaria o talmente imprudente da essere quasi volontaria. Come ho detto, c'è una diminuzione, ma non basta. Non è tollerabile che si possa morire, come è successo l'altro giorno qua a Vittorio Veneto, sulle strisce pedonali. Cioè che un pedone debba essere investito sulle strisce pedonali. Quindi è un problema di educazione, innanzitutto, di cultura del rispetto delle regole. Su questo non batteremo mai abbastanza. Ma dopo aver fatto tutti questi sforzi, ci deve essere un messaggio estremamente chiaro. Ti ho dato tutto quello che potevo, tutto quello che la società e le istituzioni ti devono, che è educazione, prevenzione, mezzi, istruzione. Se sbagli, devi pagare senza sconti. C'è molto da fare. E questo molto non è che spetta l'uno all'altro. La verità è che spetta a tutti. Ed in particolar modo alla scuola e alla famiglia. Anzi, la famiglia, prima di tutto. È lì che noi nasciamo, è lì che noi veniamo educati. E qui vorrei dire una cosa che è molto brutta da dire. Purtroppo molti adulti sono di cattivo esempio ai giovani. Per quanto riguarda la condotta e la buona condotta stradale, la buona condotta di guida. Occorre mettersi in testa che dobbiamo, ciascuno di noi deve essere di esempio all'altro. Non è una cosa trascendentale. Significa rispettare le regole della civile convivenza. La strada deve essere un mezzo di comunicazione. La motocicletta, la macchina deve essere un mezzo di lavoro, di spostamento. Un mezzo di divertimento, come la moto appunto, non deve diventare la fonte di tragedie.